Buon pomeriggio, bentrovati, questo è un video purpurri, mettiamo insieme un po' di novità che devo assolutamente mostrarvi e parto dalla Parour che mi è stata omaggiata da Happiness Boutique, sapete è un'azienda con cui collaboro già da un paio di anni che da un paio di anni mi supporta e sopporta grazie a Sonia, la mia referente. Vi ho mostrato proprio la foto già su Instagram, Sonia mi ha inviato questa parour di orecchini e girocollo a forma di cuore, questo cuore che rappresenta sì l'amore ma l'amore in ogni sua sfumatura, declinazione, espressione che sia anche un'amicizia profonda, una riconoscenza, il rispetto verso l'altro, quindi assume vari significati proprio in base alla persona da cui ricevete questo omaggio e a cui volete farlo. La parour è composta da un paio di orecchini a lobo, molto piccini, molto fini, molto eleganti come piacciono a me, c'è questo cuore di madre perla circondato da questo rose gold che a me piace tanto e ovviamente vedete il girocollo, questo punto luce sempre caratterizzato dalla luminosità della madre perla e poi racchiuso sempre in questo rose gold è anche la catenina, questi giochi alternati, queste palline con questa poi grana fine della catenina che si intervalla, molto fine, molto delicata, i bijoux della happiness sono meravigliosi, potete utilizzarli anche in doccia senza timore di ossidarli, rovinarli, hanno una qualità superiore, quindi ringrazio happiness, se volete utilizzare il mio codice sconto che sapete essere Elisabetta R al momento del check out, sopra a 29 euro di spesa, non mi ricordavo più cosa mi ha detto Sonia, 29 euro di spesa avrete il mio codice sconto, il codice mi è stato dato non tanto per San Valentino, anche se registro oggi che è San Valentino, quindi rinnovo gli auguri, ma vedrete il video in settimana, non tanto per San Valentino quanto per la festa della donna che è ormai prossima, l'8 marzo, quindi un codice sconto che arriva fino al 15 di marzo, compagni, partner, svegliatevi se volete fare dei cadeaux, dei regali, utilizzate Elisabetta R come codice al check out, un minimo di spesa di 29 euro, e il codice sconto, la percentuale ve la metto qui, insomma tutto fa, e poi sapete questa finalità green di happiness boutique, ad ogni gioiello acquistato pianterà un albero, quindi questa finalità amorevole nei confronti del nostro pianeta Terra, a me fa tanto 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 bene al cuore. Sono tornata da Kiko per utilizzare il buono dei 10 euro, e in questo negozio alle terrazze, in questo centro commerciale grande alla Spezia, prima che scattasse la zona arancione, ho recuperato il famoso Holiday James numero 2, la bellezza di questi rossetti, a parte la trama, vi ho fatto un frame, ve lo lascio, prima di indossarlo, la colorazione, ora ve la mostro, swatchate, ve la metto a confronto con gli altri che ho per rendervi conto, questo è un po' più nocciolato, nocciolato, questo invece è lo 02 della Sparkling Holiday, che è uno dei miei rossetti fotonici, è una tonalità, sì che ci si avvicina molto, direi, sono identici, e poi vi metto anche a confronto il Frappuccino, il Frappuccino ha una texture differente rispetto agli altri due della Kiko, che sono dei matt vellutanti, il Frappuccino è molto più cremoso, ma sono i colori che io amo, prediligo, guardate qua, vedete, ha questo finish più lucido, favoloso, quindi se riuscite a recuperare lo 02 della Holiday James, di questa linea natalizia di Kiko che ricorda, e ha riproposto comunque delle tonalità già nelle mie corde presenti nelle collezioni precedenti, vi dico che sono dei rossetti favolosi, che non hanno nulla ad invidiare ai marchi molto più blasonati, mi hanno stressato così tanto, ma dico in modo positivo, non solo la Michela Di Maio, ma anche la Simon Love's Makeup, che sono andata a recuperare, non solo il famoso illuminante marmorizzato, cotto della Ray of Love, così ho ulteriormente dato il mio supporto e apporto alla Fondazione Umberto Veronesi, per la prevenzione e la ricerca dei tumori del collo dell'utero, ormai l'avete visto in tutte le salse, ma è veramente un illuminante bellissimo, bellissimo, polvere finissima, micronizzata, non vi so neanche dire, è una performance totalmente differente dai soliti classici illuminanti, non è volgare, non è protagonista, lo è, ma in tono molto delicato, secondo me è un illuminante portabilissimo anche per le persone agere, mi chiedete a volte anche su Instagram qual è la mia età per poter consigliare al meglio trucchi, make-up alle ragazze, sicuramente alle ragazze no, avranno riferimenti diversi, io sono over, mi avvicino alla cinquantina, quindi quest'anno ne faccio 49, e vi dico che non è assolutamente volgare questo tipo di illuminante su delle signore di mezza età, ma noi siamo giovani dentro, non vi sconvolgete assolutamente, non vi scioccate quando parlo di mezza età, già il sommo poeta nella Divina Commedia quando parlava del mezzo di cammin di nostra vita era esattamente intorno ai 33-35 anni, perché ovviamente l'aspettativa di vita era differente da oggi, oggi io mi auguro e spero di arrivare a 100 anni, ma esattamente 50 sono la metà dei miei anni, quindi sono nel mezzo del cammin di nostra vita, di mia vita, e quindi è la mia mezza età, non ci formalizziamo, insomma affrontiamo quello che dobbiamo affrontare con intelligenza. La Ray of Love ha presentato due blush che mi piacciono entrambi, ma stava andando sold out, lo 01, era vuoto proprio l'espositore, ce n'era più che uno messo da parte, dalla commessa gentilissima, che me l'ha dato, quindi ho preferito prendere prima lui, lo 01, il Natural Biscuit, blush cotto che avete visto in ogni dove, questo se riuscite, se riuscirete a prenderlo in saldo, con i saldi, secondo me sarà favoloso per l'estate, mi scuso se sentite rumore, ma c'è un vento pazzesco, guardate che colore meraviglioso, secondo me renderà ancora di più su pelle abbronzata, ma vi dico, stava andando sold out, e ho preferito prendere lui, sono sicura che l'altro Malva, credo che l'abbia preso la Simon, riuscirò a ritrovarlo anche nel mio store, qui nella mia città. Altro blush che sta andando sold out, e quindi ho preferito prenderlo al volo, lo 01, della Mood Boost, è bellissimo anche il pack, chi butta via questi pack, assolutamente no, il cappuccino cake, una texture meravigliosa, sperando non mi cadano, perché io ho veramente le mani di burro, con i blush della Kiko, mi cadono sempre, visto così sembra un colore grigio topo, ma vi posso dire che ha questa texture impalpabile, micronizzata, che sembra quasi non preleviata il prodotto, io ho parlato di, guardate qua che luce, di texture che mi ricordano tanto quelle di Nabla, non solo negli skin glazing, profumo incantevole, non mi ricordo da chi l'ho sentito, ma riferisco che tutti i prodotti della Mood Boost, hanno una profumazione differente, questo è vero, almeno riscontrabile, non solo nella mousse corpo, alla violetta, che vi attenziono, vi suggerisco, proprio vi consiglio di prenderla, se amate le mousse pannose, belle compatte, belle sofficiosi, con questo profumo delicato di violetta, questo sembra un biscotto vaniglia, texture impalpabile, io ho detto skin glazing, perché non ho i bronzer di Nabla, ho gli illuminanti, i primi che furono lanciati, come texture atipica, anomala, anticonformista, differente dalla moltitudine di polveri presenti sul mercato, e questa la ricorda tantissimo, quindi questi sono i pezzi che secondo me, andranno proprio sold out rapidamente. Un'altra cosa importante poi saluto, stanno per riuscire da Catrice, non solo la Nude Peony, che è una tra le migliori palette, che ricordano la Nude di Huda Beauty, so che anche Giulia Cova ne ha parlato, insomma, per chi ha come punto di riferimento Giulia Cova, per chi si affida a Giulia Cova, non che io pecchi di affidabilità, però visto che lei è proprio del settore, è un'esperta, è una palette meravigliosa, veramente si avvicina tantissimo, è stata riassortita e quindi riuscirà, ma usciranno anche due nuove Pro Slim, qui ve ne ho portata una, quella più vissuta, nelle colorazioni, come potete vedere sono sempre colori, gira che ti rigira, sono questi i miei colori, ma sono, questo è scavatissimo, sono degli ombretti, che io vado a prendere in velocità al mattino, quando devo scappare, perché potete fare con questi matti la piega, la sfumatura di transizione, poi andare a intervenire con questi duo cromo, con questi metallizzati, che vi danno comunque luce, un po' di mascara, insomma, se andate di corsa come me, insomma, e non fate trucchi ricercati, poi è molto compatta, è in cartone, allo specchio, costano 9 euro, costano veramente una sciocchezza, ma hanno una qualità estrema, ecco, io parlo di make up, da donna, da tutti i giorni, voglio dire, non ho una visione molto tecnica, no, appunto, ho fatto riferimento a Giulia Cova, ma sono comunque trucchi, che io mi ritrovo la sera, che comunque devo andare a struccare, lavorando bene, insistendo bene, quindi che rimangono, parlo anche, non solo per le donne, come dicevamo, di una certa età, che si possono permettere, tranquillamente, di spendere 10 euro, ma anche 50 euro, nei trucchi, ma parlo anche per le ragazzine, una palette del genere, a 9 euro, fa veramente, la differenza, secondo me, per chi vuole iniziare a pasticciare, ma vi dico, è veramente spettacolare, da prendere, si prende, sta in un cassetto, vedete quanto poco spazio, porta via, è compatta, e ha delle tonalità, bellissime, c'è un chiaro, c'è ovviamente, lo scuro, che non è il nero, però è un bel, caffè intenso, e ecco, forse l'unico, che non ho utilizzato, è questo, qui, che è un rosa pescato, ma anche questi, sono bellissimi, per la piega, sono veramente belli belli, non sembra, ma vi posso dire, che sono scavati, si vede, no, le polveri, si spolverano un po', certe texture, ma anche questo, che cos'è? Guardate qua, questo, ve l'ho swatchato, quest'altro, che mi piace, tantissimo, cosa non è? questo, il primo, eccolo qui, vi faccio vedere, questo nella piega, bellissimo, no, guarda, eccoli qua, sono proprio belli, belli belli, insomma, avrei da parlarvi ancora, ma per oggi, termino qui, noi, ci vediamo molto presto, un bacio grande, ciao!